Ciao, sono Giada Musini e sono una social media marketer. Mi occupo principalmente di creare campagne pubblicitarie per aziende che vogliono aumentare il proprio fatturato attraverso la ricerca automatica di potenziali clienti attraverso i social media. Difatti mi occupo principalmente di Facebook Ads e Instagram Ads, quindi principalmente svolgo il ruolo dell'advertiser, ovvero di colei che crea campagne di marketing per dare a queste aziende più visibilità in modo tale che loro possano convertire quanti più clienti possibili paganti per aumentare quello che è il loro fatturato finale. Ora, voglio parlarti di quello che è il percorso che ho ideato proprio perché sono un'esperta di Instagram. Principalmente questo percorso ti aiuterà a capire come andare in profitto attraverso le strategie di Instagram Marketing e Influencer Marketing. Diciamo che ho suddiviso queste due strategie semplicemente perché su Instagram ci sono due potenze, ovvero quella del content creator, ovvero colui che crea contenuti costanti, quindi l'Instagrammer su Instagram, e l'Influencer, colui che invece sa smuovere quelle che sono le community all'interno di Instagram e portare quindi le aziende attraverso le collaborazioni in profitto, quindi molto spesso le aziende, sempre più spesso le aziende si rivolgono all'Influencer oppure ricercano costantemente persone che sappiano creare Instagram Ads, semplicemente perché su Instagram la comunicazione è più veloce. Ma non basta, non basta saper fare advertising e non basta neanche saper smuovere il pubblico con l'Influencer Marketing. Serve un percorso completo che ti permetta di creare grafiche post accattivanti, che ti permetta di creare video di valore e portarli, diciamo, condurli viralmente a trarre traffico organico. Ti servirà effettivamente sapere come muoverti con le Instagram Ads e andare a profitto subito, cioè o meglio almeno nella prima settimana di investimento. Questa strategia completa che ho creato è tutta all'interno del nuovo corso di Instagame Pro. Instagame ha già aiutato parecchi imprenditori a capire proprio le funzionalità complete di Instagram, ma Instagram si aggiorna costantemente, quindi c'è bisogno di un corso che sia costantemente aggiornato in base agli aggiornamenti che Instagram crea per noi. Infatti ci basti sapere che durante il lockdown hanno creato dei pulsantini fantastici per aiutare anche i ristoratori che volevano vendere attraverso Just Eat, quindi aumentare le vendite d'asporto. Ma questo è solamente un inizio di quello che Instagram vuole creare, ovvero vuole creare una sorta di marketplace che ci consenta di vendere quelli che sono i nostri prodotti o i prodotti dei nostri clienti attraverso Instagram stesso, senza neanche avere un e-commerce. E noi quindi dobbiamo tenerci pronti a sapere quante più informazioni possibili e soprattutto dobbiamo preparare e saper preparare quante più strategie possibili a seconda del business che dobbiamo seguire. Se dobbiamo seguire il nostro, se partiamo da zero e vogliamo diventare influencer, dobbiamo cercare di capire come aumentare le vendite e andare in profitto nel più breve tempo possibile. Se sei interessato a un percorso di questo tipo, clicca qui sotto nel link e guarda la prima lezione gratuita. Con questo ti lascio e ci vediamo al prossimo video.